e poi tu me lo mandi a me io lo carico e si sgrana la qualità invece è meglio che io metto subito il link cliccano ok è la qualità migliore ma ha detto rive bravo! 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 No, no, no No, no, no. 2 1 2 1 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Chiapetano 7 Chiapetano 8 Chiapetano 8 Ciao Ciao c'è presto Chiapetano 8 Chiapetano 8 Chiapetano 8 c'è un Vč Register grazie Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì.